Correnti parte piano Pablo Escobar, l'errore di Prometeo va in avanti Pasqualina Disa, l'errore di Pentax in seconda posizione rimane Pandaz di Mazvala a precedere Pisolo de Gleris dalla seconda fila avanti a Playa de Gloria. Metà della prima curva con Pasqualina Disa all'avanguardia, i 200 iniziali in 15 appena abbondante, insiste Pisolo de Gleris che si protende al fianco di Pasqualina al completamento del primo mezzogiro, l'avversaria replica e Pisolo è costretto ad adeguarsi i 400 iniziali in 29-1. Il terzetto di testa ha preso chiaro margine di vantaggio al resto del gruppo che si è frazionato sostanzialmente in tre tronconi, Pisolo de Gleris che insiste al fianco di Pasqualina Disa e due avanti a Pandaz di Mazvala che rimane lì, spettatore interessato per linea esterna e Pellegrino getta al fianco di Playa de Goria il 600 in 44 e mezzo davanti alle tribune, continua la diatriba del duo di testa con Pasqualina Disa e infine sopra avanzata da Pisolo de Gloria. Riesposta dalla corda Pandaz di Mazvala, il giro di corsa in 59-3 con Pisolo de Gleris che si mantiene in vantaggio a largo ma non riesce alla conversione alla corda, rientra Pasqualina Disa al completamento del chilometro, 14-9 Pandaz di Mazvala e lì a tire viene via in terza corsia e in mezzo alla pista si fa vedere anche Patrio Terrell al fianco di Pellegrino getta, insiste Patrio Terrell che va al fianco di Pandaz di Mazvala all'attacco dei mine due scompaiono quelli entrati nella lotta iniziale, sulle tracce ai primi c'è Pellegrino getti, indietro Palmatrio, 1-29-7, tre quarti miglio e Patrio Terrell è in vantaggio a metà della piegata finale nei confronti di Pellegrino getta, lungo i birilli Pandaz di Mazvala, il quarto non c'è all'ingresso alla dritta arrivo, Patrio Terrell è in vantaggio sulle sue tracce, Pellegrino gett, Patrio Terrell si difende da Pellegrino getta, Patrio Terrell che si sottrae a tutti i tentativi di Pellegrino getta, al terzo termina Pandaz di Mazvala 1-58-3, il totale si è volato dal primo all'ultimo metro, 1-14-2, la media al chilometro per la sesta vittoria in 18 uscite in carriera, la quinta consecutiva è imbattuto nella nuova versione patrio Terrell che continua il momento d'oro di Tony Porzio e il figlio Giuseppe sul tabellone numero 10 al primo posto, al secondo il 12 Pellegrino getta, al terzo l'uno di Pandaz di Mazvala, 1-14-2 che è il record in carriera per il quattro anni da Ganimel